Scocca l'ora degli stati generali della maldicenza aquilana nella Sant'Agnese delle Sant'Agnesi 2016. L'ormai tradizionale manifestazione si tiene a un mese dalla festa canonica e celebra solo all'Aquila il 21 gennaio e riunisce le congreghe storiche legate al culto laico della patrona della maldicenza, appunto Sant'Agnese. La Super Sant'Agnese tornerà a casa nella quattordicesima edizione affidata alla confraternita Balla che te passa che per la prima volta nel 2002 convocò il conclave delle principali congreghe agnesine poi allargate negli anni per parlare insieme del passato, del presente e del futuro della tradizione. Un incontro allora inedito voluto con forza dal presidente della confraternita Umberto Pilolli e da Alessandro Orsini, indimenticato giornalista aquilano e cultore della maldicenza agnesina. Anche da questo dibattito si è originata la manifestazione Il pianeta della maldicenza organizzata dall'Associazione Culturale dei Devoti di Sant'Agnese che precede ogni anno l'evento del 21 gennaio. L'appuntamento è per domenica, 21 febbraio alle ore 13, presso la balera Arcobaleno di Vittorio Nuvolone. La manifestazione culminerà nell'elezione del superpresidente 2016 alla cui congrega spetteranno l'onore e l'onere di organizzare l'edizione 2017.